Avere o essere sono per Eric Fromm due modalità esistenziali contrapposte che adottiamo nella nostra vita. Nel libro Fromm fa molti esempi relativi all'espressione di queste due modalità. Nell'apprendere, ad esempio, gli studenti che fanno proprio la modalità dell'avere seguono tutte le lezioni solamente per acquisire un sapere nozionistico, è un sapere che vogliono possedere ma che non integrano con una riflessione nel loro sistema di pensiero. Seguono tutte le lezioni, trascrivono parola per parola ciò che dice l'insegnante, imparano a memoria solamente per poter passare un esame. Hanno come unica meta quella di conservare quanto hanno appreso. Lo registrano nella memoria senza una vela riflessione. Sono perciò poco aperti alle nuove idee che minacciano ciò che con tanta fatica hanno accumulato e cristallizzato nella memoria. Gli studenti che seguono la modalità dell'essere, al contrario, riflettono sulle questioni poste dall'insegnante, pongono domande, hanno idee proprie, elaborano ciò che ascoltano, non sono ricettori passivi. Ognuno viene mutato dalle lezioni a cui assiste. Si è diversi alla fine delle lezioni da come si era prima. Si approfondisce una materia perché si è accesi dall'interesse, non dalla volontà di avere un voto alto. Ovviamente questo tipo di atteggiamento è anche influenzato dalla modalità con cui si pone l'insegnante della materia. Vuote chiacchiere dell'insegnante poco stimolanti difficilmente potranno ottenere un incontro con una modalità dell'essere. Il risultato quindi di questi due processi di apprendimento si riflette nel conoscere o nell'avere conoscenza. Tali due modalità possono manifestarsi anche ad esempio in una conversazione. Ad esempio due persone che intraprendono una conversazione secondo la modalità dell'avere saranno interessati semplicemente a difendere la propria opinione, ricercando gli argomenti migliori. Nessuno dei due è disposto a incontrare realmente l'altro nel dialogo, né è disposto a mutare parere, né si aspetta appunto che l'altro cambi opinione. Questo avviene perché i due si sono identificati con la loro opinione, la quale è vista come un possesso da custodire, da difendere. La sua perdita causerebbe un impoverimento. La conversazione può essere in alcuni casi addirittura preparata precedentemente per far colpo sulla persona che ascolta. Ad un occhio superficiale tale inganno potrà anche riuscire con successo, ma ad un occhio attento tale conversazione risulterà artificiosa, noiosa, inautentica. Al polo opposto vi è il vero e proprio dialogo, in cui non importa chi ha ragione o chi ha torto, e nel quale vi può essere realmente la vera crescita, in cui ci si può arricchire a vicenda. Tali due modalità si possono esprimere in molteplici situazioni, ad esempio nella lettura di un libro, si può consumare un libro per possederlo o perché si spera di arrivare alla fine, oppure si può leggere per dilatare la conoscenza di me stesso, per comprendere al meglio il personaggio. Ci sono un'infinità di modi in cui queste due diverse modalità si manifestano nella nostra vita quotidiana. Il problema è che la nostra società incoraggia uno stile orientato all'avere, in cui l'esito è più importante della qualità del processo. Il risultato di tutto questo potrebbe essere che la nostra vita ne risulta impoverita, risulta vuota, priva di contenuti, perché ci curiamo più di ciò che possediamo rispetto a ciò che siamo, quindi andiamo incontro alle aspettative altrui e non ai nostri reali desideri. È vero anche che può non essere facile adottare uno stile di vita che confligge con quello adottato dalla maggioranza, può portare i propri problemi e le proprie solitudini. Perciò vi lascio oggi con una piccola riflessione. Secondo voi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di uno stile di vita orientato all'avere e di uno stile di vita orientato all'essere? E quale delle due modalità è secondo voi più saggio adottare? Fatemelo sapere con un commentino e noi ci vediamo nel futuro.